Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Dave e siamo qua oggi con una porta nella sabbia Vi faccio subito vedere come funziona Attivata Disattivata E' una porta anche questa, come quelle di due tutorial fa, se non sbaglio Una porta segreta, un modo molto intelligente secondo me di nascondere una stanza E poi fatta nella sabbia riduce ancora di più il rischio di venire scoperta Perché chi si sognerebbe mai che ci sia una porta dietro ad un muro di sabbia Ecco, in sintesi è una porta attivata a pistoni, molto facile da fare, molto intuitiva anche E vi farò subito vedere come si fa Allora, innanzitutto va scavato Ecco, facciamolo un po' qua Allora, innanzitutto va scavato, non scavato, costruito un muro largo 7 4, 5, 6, 7 In questo modo Al posto della sandstone potete mettere qualsiasi cosa L'avevo fatto di sandstone perché, diciamo, sembrava più Più, come dire, fatto meglio, ecco Fatto più in tinta, tra virgolette, con il resto del serve In sintesi, se la smettessi di mettere blocchi a caso, ecco Ok E la nostra porta andrà a ricadere esattamente qua sotto Molto semplicemente scaviamo una fossa Perché ci servirà un bel po' di spazio Larga 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 E lunga Cioè, no, larga, altri 6 Quindi 1, 2, fatto 1 in più Ok Perfetto Tutto questo possiamo toglierlo Ok Va fatta per fondaterema lasciando tensione bene Un blocco qua, un blocco qua, un blocco qua e da qua Si scava Da Ok Ops Con questo instant mine qua, continuo a spaccare blocchi a caso Comunque Come potete vedere, per fonda 2, va fatta ancora di 1 Ma lasciando una specie di, tra virgolette, chiamiamola cornice, ecco Perché servirà per trasportare il circuito primario di redstone, ecco In sintesi È per questo E scaviamo Così Scaviamo un altro buco qua sotto Sotto, esattamente sotto il muro di sabbia Dove andrà poi messo il nostro pistone Quindi Ok I nostri pistoni, scusate perché Si questa porta è attivabile con due pistoni Altrimenti non funzionerebbe Allora Abbiamo fatto la struttura principale come potete vedere Andiamo ad attaccare qua la nostra leva O se volete collegarlo con un T flip flop e vi farò poi vedere come si fa Un vostro bottone, ma in questo caso una vostra leva E andiamo a tracciare un circuito in questo modo Qui mettiamo un invertitore per il semplice fatto che altrimenti la porta rimanerebbe aperta E proseguiamo con la nostra redstone in questo modo Ok Una volta arrivato qua Mettiamo un pistone qua E Un pistone sopra Esattamente tutte e due orientati allo stesso modo come potete vedere E mettiamo un repeater qua Repeater senza delay Senza assolutamente toccare nulla Semplicemente un repeater Andiamo a mettere redstone qua E aggiungiamo un altro repeater qua Questa volta con pieno delay al massimo E facciamo la stessa cosa dall'altra parte Metteremo qua Un Un'attacca Di delay Mi sa che sto facendo Sto facendo il contrario molto probabilmente Mi sa che No è giusto, giustissimo Vabbè La mia memoria come al solito Molto bene Sì Sì Questo se ne andasse Ok Eccolo lì Sapevo che sarebbe successo Molto bene E la nostra La nostra porta sostanzialmente È fatta Come potete vedere Adesso si tratta solamente di Di ricoprire Tutta la nostra redstone L'ho detto È un concept veramente molto Molto facile Molto intuitivo Si capisce Si capisce sostanzialmente come funziona La redstone attiva Prima di tutto questo qua Che fa salire questo pistone qua Di un'attacca Subito dopo Fa Attiva questo qua E attiva questo qua Quasi subito Di modo che Spinga in su Il Questo pistone E trovandosi di un blocco in su Questo pistone Viene attivato da questo repeater Spingendo Grazie Spingendo la La sabbia di due blocchi in alto È veramente molto Molto carino Assolutamente Niente di complesso Come in quasi tutti I tutorial che faccio Cerco sempre di puntare a tutorial semplici Facilmente intuibili Ecco Ed ecco qua la nostra Porta di sabbia O sand door O chiamatela Come poi vi pare Eh si L'unico problema è La redstone qua Ma come detto Essendo un concept Può essere fatto sicuramente Molto meglio Ecco Può essere fatto Molto 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 più nascosto Molto migliore Ci sono diversi Sistemi che Ti permettano di Togliere la redstone Così abbiamo già Guadagnato un blocco Potete magari Costruire Costruirci qualcosa attorno Non so Applicatelo nel senso Come volete voi Ecco E niente ragazzi Per questo tutorial è tutto È anche scesa la notte Bello Qui è Dave E niente Vi auguro Una buona giornata E al prossimo video Ciao a tutti